Obama sta facendo questo, sta andando verso delle strategie degli anni 30, come diceva Schumacher, sboli sbiuti con piccolo e bello, invece di fare un'America società, unire due società da 2.000 lavoratori e fare una da 4.000, ne fai 4 da 500. Cominciare dal basso, cominciare dal piccolo, cominciamo a indieterci sulle parole, facciamo la battaglia sull'acqua pubblico o privata, ma non abbiamo ancora capito un caso, non abbiamo capito che il comune non è più il comune, ma è un SBA, bisogna che direci cosa significa pubblico e privato, perché cosa significa fare una battaglia per l'acqua pubblica quando la gestione del comune è una gestione di un'amministrazione di un SBA, un sindaco oggi è un amministratore delegato, il sindaco delle regioni fanno gli amministratori delegati, comprano i derivati in banca, si inventano, giocano in finanza, fanno i gruppi E, che cos'è oggi il comune, che cos'è una regione? Le parole, perché si fregano con le parole, il significato che abbiamo noi, quelle parole non c'è più, allora quando fai il pubblico e il privato devi capire di cosa stai parlando, come farlo, perché se no inglobano tutto, come stanno già facendo, prendono delle icone, fanno il popolo viola, prendono Saviani, prendono De Magistris, prendono queste persone che dovrebbero fare un altro lavoro, dovrebbero andare in Europa e dirci che cosa succede in Europa, invece accorpano, comunque vogliono fare i segretari di un partito nuovo, ma è sempre la stessa cosa, non abbiamo bisogno di un partito nuovo, abbiamo bisogno di ricominciare e si ricomincia così modestamente come stiamo facendo noi, ricominciamo dal basso, piccoli passi, piccoli passi.